Marcello Quaglia, siamo qui al Circolo Canottieri Lazio a Roma per presentare un libro importante. Il signor Marcello è stato pilota di Arafat. Buonasera. Buonasera a tutti. Come nasce questa idea? Da che cosa nasce? L'ha scritto il libro comunque sua figlia, la giornalista del Messaggero, tra l'altro, Lucilla Quaglia. Come nasce questa idea? Arafat aveva bisogno di un aeroporto per spostarsi in Europa perché lui aveva degli Antonov con piloti palestinesi che ovviamente non sarebbero stati autorizzati ad atterrare negli aeroporti occidentali, andare in America, andare a Parigi, andare a Londra, venire a Roma. Avevano dei problemi ovviamente di posizionamento, cosa che noi non avevamo. Arafat aveva bisogno appunto di un aereo occidentale per muoversi liberamente in tutto il mondo occidentale. I suoi rappresentanti nelle varie capitali europee avevano scelto delle compagnie, le compagnie aeree, però diciamo alla fine la scelta è caduta sulla mia compagnia, in particolare sul capopilota che ero io, in quanto avevo un curriculum che gli altri non avevano. Di che periodo parliamo innanzitutto dall'inizio e anche fino alla fine? Quanto è durato questo lavoro particolare, segreto per Arafat? Cinque anni, dopo cinque anni ho dovuto interrompere perché non era più segreto e quindi è chiaro che ogni volta che da Ciampino partivo per Tunisi tutti sapevano che dell'inpoio partivo per Arafat. Non certo per quello che avevo detto in questi cinque anni che avevamo degli ingegneri che costruivano delle strade, delle città e avevano bisogno di essere trasportati da Tunisi nei vari cantieri. C'è stato un episodio perché con il suo Antonov Arafat è caduto nel deserto libico e quindi io sono stato chiamato nella notte per portare il suo staff e la sua moglie a Tripoli per coordinare le ricerche e rientro dopo, dopo ho trovato a Arafat portato in ospedale io sono rientrato a Ciampino con l'occasione dove riportare il giorno dopo la moglie a prenderla di nuovo a Tunisi e l'avevo portata a Tunisi e a riportarla di nuovo a Tripoli e mi vengo chiamato da diversi giornali volevano un'intervista che io ho rifiutato mentendo spurosatamente che non ero il pilota di Arafat però si era venuto a conoscenza di qualcuno che ho scoperto che era stato il mio copilota che aveva riferito il nome, la compagnia, tante cose e quindi ormai non era più segreto quindi ho dovuto dopo un anno interrompere questo rapporto con Arafat perché la segretessa è venuta meno